Ciao ragazzi, qui è Blast, diciannovesimo video-commento, tutta l'analitica, dietro il 23, il ritorno Sono ancora un po' scioccato, provato dal come venne eliminata Niscelle per mano di Giulia Giulia molto furba in quello che ha fatto L'eliminazione però nulla digerisco Per quanto la arrivai a paragonare a quella di Lesciana Forse lì è un apice intoccabile Perché Lesciana, in quel caso, se aveste passato l'eliminazione probabilmente avrebbe vinto Secondo la morale dell'isola Ma Niscelle venne veramente ingannata Se ne esce eliminata sarebbe bello in realtà vedere anche un piccolo spin-off Indietro le quinte di come se l'ha presa Niscelle a sentire ciò Mi aspetto che prima o poi un commento verrà fatto anche in finale Insomma, qualora dovesse arrivarci Giulia o anche se non ci dovesse arrivare Niscelle penso che potrebbe avere un risentimento Voglio però anche credere che Niscelle da questa avventura ne sia uscita diversa Sicuramente più forte e anche se non con i contratti che vide Di Giulia ingannati Con qualche contratto vero magari sì Perché Niscelle è un personaggio davvero che ha svoltato Insieme a Caleb Probabilmente è l'unica che ha dato prova di essere qualcuno di diverso rispetto a questa stagione Chris fin da subito ci rammenta e ci ricorda che qualcuno o forse qualcuna Di nome MK gli ha rubato il phon e dovrà vedersela con lui Visto che il phon è proprio lo stesso oggetto che cercava Chris proprio nello scorso episodio Con il quale poi Chance dovette arrangiarsi per fargli una nuova capigliatura È per quello che quindi Chris aveva i capelli a spazzola Per cui capiremo nel corso di poche scene come MK verrà punita Perché sarà una punizione abbastanza importante Quello che accade fra Caleb e Priya lo sappiamo noi utenti Lo sanno loro e lo sa anche Zee Zee è un personaggio che sono sincero Anche in questo episodio ha avuto modo di parlare di sé Insomma ha fatto la sua parte da scemotto Da personaggio molto particolare Ma lo trovo un po' anonimo Probabilmente perché sono rimasto un po' assuefatto ormai dal suo comportamento E ciò che fa o che dice non mi particolarmente sconquifera Però sicuramente il fatto di essere un terzo incomodo Potrebbe essere importante anche in virtù di una scena finale Insomma Zee sa benissimo il gioco delle parti Perché lui è sterno un po' come noi Sa che Priya è innamorata Mentre Caleb non lo è È solo uno stratega E sarà proprio in questa occasione Che conferma ciò che pensava O ciò che sperava di non sapere Perché Priya è davvero innamorata Infatti quando Priya vede Zee Zee forse vorrebbe dirgli qualcosa Ma è Priya a dirgli non mi dire niente Non voglio sapere niente Spero solo che tu non dirai nulla assolutamente a nessuno È una bella coppia Mi piace Forse anche un bel tritti Così di mezzo ci sta come i cavoli a merenda Ma mi piace questo scenario E poi Priya e Caleb È una coppia che forse pronostica Anche in passato di aver voluto vedere Perché sono due personaggi che stanno bene Uno grosso L'altra molto invece magra Uno molto atletico Ma lui è pure quell'altra Seppur la diversità di altezza Insomma li trova abbastanza belli Anche esteticamente E sarà Chris sempre a essere protagonista Di questo episodio Perché darà una grande notizia Ovvero le squadre verranno sciolte Ufficialmente è col merge Quindi la fusione di esse Per cui i concorrenti rimasti Che sono dieci O forse undici O dodici No Sono darebbero dieci Ma bisogna capire se Wayne e Raj Contrano per uno Oppure per due Io spero Che essi Possano valere Per due personaggi distinti Ma ho l'impressione La paura Che invece Saranno uno di concorrente E come nella prima serie Accadrà qualcosa Per cui Quando uscirà uno Uscirà anche l'altro Speriamo di no Ecco Guardando un po' Quelli che sono rimasti Ad oggi Rispetto alla prima serie Beh abbiamo già Qualcuno di importante Che è riuscito ad arrivare Oltre appunto La fusione Caleb Damien In particolare Axel Insomma personaggi Che già fino a questa parte Nella scorsa serie Non ci arrivarono Non ricordo se Mikhail riuscì ad arrivare A questo punto Ma Sicuramente Sta avendo un'avventura Differente Gli altri Sono comunque personaggi Che sono arrivati in fondo Eccetto Millie E poi vabbè Chase E Emma Certo Però Devo dire che Il cast Mi piace Per come è arrivata La fusione Preferivo Nichelle Forse al posto Però di chi Al posto di Damien Non lo so Anche perché Z sta giocando Questo ruolo fondamentale Da palo Da candela Su Caleb e Pria Quindi Dai Il fatto che Nichelle sia uscita Non mi è piaciuto Non la digerisco Però Tutto sommato Chi poteva uscire La corsa volta Non lo so Eccetto Damien Chi poteva uscire Insomma Le quali sono sciolte E Chef Da anche una novità Ovvero Che chiunque Nel corso dell'avventura Troverà mai Trovesse trovare Anche non necessariamente In ogni puntata Questo Chris d'oro Chiamiamolo così Che è poi una piccola statuetta Che è scimmiotta Appunto Chris d'oro del tour No Di azione Oddio non ricordo Vabbè Ottenere l'immunità Però Non sarà facile Ottenerlo Perché Chris stesso Dice che può essere Sotto Nelle profanità degli abissi Oppure dentro una caverna Lontanissimo Sperduto Chi lo troverà però Nè immune E sicuramente Giocherà un volo chiave Questa statuina Qualcuno Proverà già a cercarlo E poi vedremo chi Dunque La sfida di cosa si tratta È una sfida che Secondo me È stata vista Non proprio Nella modalità Come è stata affrontata Ma l'idea Di sfidarsi Uno contro uno Con questi Braccioli Con queste canne Guarda vedremo Questi bastoni Mi sa già vista Notare come Reaper e Axel Ormai sono una cosa sola Io sono contento Per entrambi Un po' in realtà Mi stona Tra virgolette Il come Reaper Si è riuscito A conquistare Axel Perché io mi aspettavo Axel Una ragazza Fino a quello che Potevamo sapere Simileva Quindi dal cuore Di pietra O forse un cuore Che non esisteva Però in realtà Reaper Con la sua simpatia In poche battute In piccoli sguardi Riuscì a conquistarla Quindi complimenti Entrambi Non so come andranno avanti A me Axel Piace tanto Se dovessi Spingermi a un commento Puramente estetico Maschilista Axel Forse Quella Che preferisco E Reaper Non so bene Cosa c'è a Zecchi Però Beato lui Fortunello Dunque Cosa accade Qui abbiamo già Un primo colpo di scena Già in qualche modo Anticipato E che prima o poi Doveva accadere Io l'avevo già pronosticato Dalla prima volta Che MK provò ad ingannare Non solo se stessa La squadra Ma anche Chris Chris scopre MK E davanti a tutti Dice quello che è accaduto Non ne rivela i dettagli Ma fa capire effettivamente Che lei Si intrufura nello staff Con un uniforme E nelle precedenti 4-5 sfide Lei ottene dei vantaggi Per sé E per la sua squadra Ora Qualcuno può pensare Me compreso al tempo Qual è la punizione È una cosa molto semplice Ma probabilmente La punizione più grande È quella di essere stata scoperta Per cui MK Se ne tornare a casa Da questo episodio Come un personaggio Che dovrà un po' reinventarsi E dovrà stare molto attenta Dovrà guardarsi le spalle Un po' da tutti Perché sa di essere additata In particolare Da chi Non era con lei in squadra Ecco La grande punizione Se così si può definire È semplicemente Quella che MK Dovrà trascinare Da sola Questa canoa Perché Perché tutti i personaggi Si dividono a coppie Non le ricordo perfettamente Ma poi le analizzeremo Meglio assieme MK però Rimane da sola In quanto dispari Sono appunto Unici concorrenti In questo caso Vedi Wayne e Raj Sono considerati Come personaggi separati Ma cosa sarebbe accaduto Se uno dei due Avesse vinto Automaticamente Immune anche l'altro Questo è un punto di domanda Che O è un errore O un dettaglio Che Tanto spoiler Non vince l'uno Nell'altro E quindi Non ci han pensato Comunque MK rimane da sola Mentre le altre coppie In maniera più o meno casuale Si uniscono Dovremo portare Come prima Parte di sfida La canoa Da questo punto Fino alla spiaggia E poi appunto Fare le coppie E vedere Chi uno contro l'altro A suon di bastonate Come già spesso è accaduto Ecco Priglia e Caleb è una Poi c'è Damon e Z Abbiamo Giulia e Wayne E Gli altri due rimanenti Sono Bowie e Raj Mentre MK appunto è da sola O meglio non sarà proprio da sola Ah vabbè c'è Axel e Ripper Non sarà da sola Ma ci sarà un ulteriore concorrente Usato solo per questa occasione Non so bene perché Chef e Chris Siano così vestiti Ma in ogni caso Boh Volevano probabilmente Essere un pochino più sgargianti E fan partire la sfida In questo modo Con questo trombone Da re Da giullare Comunque Via alle danze Ecco Questo è il concorrente Invitato Per MK Quindi l'ennesima punizione Un po' questa La faccia di MK Dice tutto Per cui Lei dovrà battersi Contro un orso Chiamato appositamente Per questa sfida Ecco qua Sono queste le coppie Onestamente Da questi collegamenti Non potevo mai arrivare A pensare Chi davvero Potesse vincere Mi ha sorpreso Pure in questo caso Anche perché qui C'è molto di casualità E poi è giusto Non riuscire a prevederlo Ecco I vestiti di Chris e Chef Penso siano un punto In più per questa sfida Dunque I primi A battersi Sono Axel Contro Ripper Vince Axel Molto facilmente Anche perché Ripper Mentre Sproloquio Ormai è totalmente Innamorato di Axel Non pensa che Axel Possa fargli del male Invece è così Lo scaraventa Viene nell'acqua di pochi secondi Chissà che alla lunga Questa relazione Mette un po' le mani avanti Non possa stufare Non tanto a loro due Ma tanto agli altri concorrenti O anche a me Utente Non escludo quindi Che O ci sia un litigio Speriamo di no Perché mi dispacerebbe Per Ripper O anche un po' per Axel Li vedo veramente innamorati Seppur Un colpo di fulmine Perché penso che non si siano Mai parlati Almeno da quello che sappiamo Ma solo baciati Però Contento loro Contento anch'io Però Ho paura Che accada qualcosa Perché sono due caratteri Opposti Allo suo tempo forti Boh Diciamo che Qualcosa potrà accadere Secondo me Altra coppia Che si sfide Bowie Contro Raj Anche qui Raj Probabilmente prove Impietosire Bowie Dicendo che Siamo amici Molto stretti Legati Fidanzati Non facciamoci del male Boom Raj è fuori Sicuramente la coppia Che mi ha dato anche qualche emozione in più È questa Caleb e Priya Love per entrambi Perché Sono due personaggi davvero Belli Forti Attraenti Interessanti Certo Il fatto che Priya Abbia già vinto Un po' Pregiudica Il fatto che non arriverà in fondo Tantomeno alla finale Secondo me Ma mi auguro Che almeno Caleb sì Perché sarebbe un mio sogno Sarebbe la mia rivincita Pensate che Caleb Primo eliminato Della scorsa stagione Che io pronosticai Come primo classificato Ora Non dico che debba vincere Anche se perché no Ha le possibilità Come l'aveva Nichelle di fatto Ma è una bella coppia Sono due bei personaggi Sul finale accade qualcosa Che chissà Un po' avevo già intuito Anche già Nelle scorse puntate Ma che potrebbe forse rendere Un pochino più debole Caleb Vedremo Alla fine quello che accade Tra i loro due È molto semplice È molto divertente È quasi ridendo Caleb non potete vederlo Ma fidatevi ride quanto Priya Nello stesso momento In cui cade uno Cade anche l'altro E quindi danno forfai Praticamente Tra Damien e Z Vince Damien Con un po' di astuzia Complimenti a Damien Io onestamente Continuo a non trovare Nulla di interessante in lui Lo trovo anonimo Lo trovo un numero Qualcuno può pensare Al contrario Io non vedo nulla Di interessante C'è chi lo definisce Intelligente Chi lo definisce furbo Sì Ricordiamo che intelligente Lo è Proprio a livello Di cervello Nella prima stagione Si era messo in mostra Con le sue doti chimiche Mi pare O di scienza Qui secondo me Sono andando avanti Un po' a inerzia Però il fatto che comunque Si porti avanti Chissà che non possa poi Accadere anche a lui qualcosa Di importante Vedremo Ecco invece Tra Giulia e Wayne Anche qua Vince Giulia In maniera piuttosto semplice Pensavo che Wayne Potesse dare De più di fede da torcere Ma mi pare che lui stesso Dica che Non avrebbe mai voluto Picchiare una donna Tanto meno da farle del male Quindi è come se si Autosacrificasse E tra MK e l'orso È quasi scontato Che potesse poi Vincere l'orso Di fatto MK Torna Nelle acque E sono loro quattro Quindi finalisti Quindi le ultime Due coppie A doversi sfidare Damien contro Giulia E Bowie contro Axel Eccole qua Dunque Arrivati a questo punto Avevo già un sospetto Su che potesse vincere Avevo l'impressione Che Giulia Non potesse farcela Così neanche Come Bowie Perché Bowie Butta giù Axel In maniera anche Abbastanza forte Quindi buono per Bowie In realtà È furbo Bowie Perché ricordo ora Le parole Dice ad Axel Guarda chi c'è Là giù in fondo C'è Rip Perché si bacia un procione Lei si gira Completamente innamorata Ormai folle Totale Mi piace questa cosa di Axel Questa controparte Che non mi saremmo mai aspettato Lei si gira E Bowie tira Questa bassonata E lei cade Però Axel Per quanto sia Follemente innamorata Non ha mai perso Quello smalto aggressivo Che comunque Mi viene a piacermi Quindi sapere che lei È sia affettuosa Dolce Innamorata Ma è anche la stessa Tenace Grintosa Determinata Nella prima stagione È un connubio Per me perfetto Nel frattempo Piccolo spin off Diciamo dalla sfida Perché Caleb e Priya Provano A cercare l'immunità Ma non sarà così semplice Oltre a ciò però I due si avvicinano Sempre di più E Priya Si lascia sfuggire Che effettivamente Non ricordo le parole esatte Che prova Una cosa verso Caleb Lo dice Con una faccia Con degli occhioni Proprio molto innamorati E Caleb Forse capta qualcosa Ma su questo Torneremo verso il finale Tra Damien e Giulia Incredibilmente Vince Damien Ma non tanto Per demeriti Ma perché Giulia è sempre stata Molto aggressiva Per potente Arrogante E Damien La riesce ancora A battere Ok L'ultima sfida È una cosa di surreale Di nuovo Sicuramente mai visto I finalizzano appunto Bowie e Damien Entrambi sono trainati Da questi motoscafi Di due staffer Su due cavalli Bob Non so bene Il motivo Ma in ogni caso Vince Chi tra i due Si scontra E fa cadere l'altro E Il ruolo di tamburi Chi vince È Damien Incredibilmente O meglio Dai Se lo merita Anche se io non ho Alcun tipo di interesse Per questo personaggio E si nota Perché non ci trovo Nulla di interessante Forse perché ho un po' Di pregiudizio Dalla scorsa stagione Ma Vedete Caleb Nichelle Axel Secondo me Sono riusciti a Essere più interessanti Come me Damien Non coinvolge Comunque Bowie dice Caro produttore Caro Chris Fammi Nel confessionale Fammi una piccola moviola Di come io vincerò Ecco questa è la scena In cui Bowie vince Vince E entra in acqua Quindi complimenti a Damien È salvo È immune Ebbene Siamo arrivati Alla conclusione Di questo episodio Dove però Attenzione perché Le cose ancora Non sono finite Dunque Arrivati a questo momento Tolto l'orso Che fa la sua Scenata finale Tolto Ripper e Axel Che Che manco Jeff e Bridget Ai tempi d'oro Se non conoscevano così tanto Però Ripeto Contento per loro Viva l'amore Mi piacciono Dunque Guardandoli Io Avevo già un dubbio Che potesse uscire Ma onestamente Non pensavo Proprio lui Eh sì È un maschio Io ipotizzavo MK Sono sincero Anche perché In questa serie Ha proprio È dato l'idea Di essere Una persona Trofaldina Di riuscire a ingannare Tutto e tutti Probabilmente Dalla sua Aveva la squadra Presumo Ecco La cosa che critico È che non so Chi abbia votato chi Non si riesce a capire Perché Quando si è in così tanti Tutti contro tutti Sono dieci voti Completamente Messi a caso O undici Chissà se Wayne e Raj Valgono uno o due Presumo uno Quindi dieci voti Anche Damon vota Ma insomma Chi arriva A essere eliminato Qua piccola scena Che poi vi spiego Bowie Bowie incredibilmente Esce È incredibile Per il fatto Che è Bowie Perché Arrivo in finale Nella scorsa stagione Non ho ancora visto Il finale alternativo Ma si presume Che lui l'abbia vinto Alternativa appunto Aprilia E un po' mi dispiace Perché Bowie Non ti dico Che è iconico Ma Sì Forse lo potrebbe essere È il personaggio Più Conosciuto Della nuova stagione Bowie Anche solo Per il suo tratto estetico Per il suo carattere Per la sua caratteristica Di essere omosessuale Che comunque Viene sottolineata Praticamente sempre Nella prima stagione Quindi un po' mi dispiace È un po' come Quando uscì Owen Sono quei personaggi Ovviamente Un paragone forte Però vi fa capire Come Bowie Per me era Sì dai Iconico Prima non Io so di no Ma ora ti dico di sì Perché è un personaggio Che probabilmente Copertina Tra le varie Dive Tra virgolette I personaggi più importanti Della nuova serie Tra lui Giulia Zee Io parlo anche Di personaggi un po' pop Un po' divertenti Forse Bowie Era il migliore O comunque Il più conosciuto In ogni caso Bowie esce E mi dispiace Sono sincero Ma neanche tanto Mi dispiace per il personaggio Perché poteva ancora dire tanto Dopotutto Nella relazione con Roger Ecco rimane un po' appesa Forse la relazione Poteva essere meglio spiegata Invece Non venne praticamente Mai calcolata Se non Per giochi di squadra Ma quello Che più mi stupì È questo O meglio Quello che arrivai a confermare Perché io dall'inizio Disse una cosa Senza sapere nulla Caleb Cari amici È innamorato di Priya O meglio Potrebbe innamorarsi di lei Ci vorrà poco Ecco È effettivamente così Nel confessionale Lui fa capire Che non è solo un gioco Non vede Priya Come una pedina Come un'alleata Soltanto Ma la sta vedendo Anche come una possibile ragazza Da conoscere meglio Poche parole Ecco La faccia di Z Racconta tutto però Perché Adesso Z Cos'è che sa Che Caleb Sta giocando E che Priya è innamorata Z Sta vedendo però Che Caleb Sta giocando Un po' troppo sporco Perché lui È convinto Z È convinto Che Caleb Stia solo giocando Invece Caleb Non arriverà Non arriveranno in fondo Anche è probabile Che forse Un episodio Uno dei due Esca Perché no Perché prima o poi Un'altra copia Si deve sciogliere Secondo me Axel Ripper Potrà ancora andare avanti Ho paura Per Caleb e Priya Ho veramente paura Perché È un amore sano È un amore Tra uomo e donna Insomma Che non si vedeva Non si era ancora mai visto Nella In questa serie Certo Raj e Bowie Ma è un amore Un po' particolare Axel e Ripper Ancora più particolare Perché non si parlano Invece Priya e Caleb Ci sto entrando dentro Cioè Io Li vorrei vedere Anche assieme No I nuovi Jeff e Bridget Speriamo Speriamo che Anche se dovesse riuscire Si può mettere un amore Per sempre Perché Non so Anche se è un carino animato Mi dispiacerebbe L'unico regalo Che Raj Fa a Bowie Sul finale È un suo fazzoletto Sporco di Catarro Per ricordarsi di lui Ecco Come Bowie Però uscì Giulia Fece credere a tutti Che Bowie Fece un qualcosa Di ingannevole Verso la squadra Ora non ricordo bene Prese il camice Non ho ben capito Questa parte Ma insomma Riusci a salvare MK Questo fa capire Che anche questa È una coppia Comunque Che si protegge Una vicenda E sicuramente Se ne approfitta L'una dell'altra MK oggi Completamente sotto tono Ma anche perché È distrutta psicologicamente Speriamo Nelle prossime puntate Che dire Io mi soffermo Su questa immagine Perché Sono contento per lui Un personaggio Che da ultimo Da prima eliminato Da ultimo Classificato Ha rivelazione totale Ora che non c'è più Nichelle È Caleb L'uomo più importante Il concorrente più importante Che mai Avremmo potuto pensare Eccetto me Che potesse fare meglio Ci ho detto Aspettiamo con ansia I prossimi episodi E alla prossima Ciao ciao